Beh, ci sono stati temi abbastanza differenti, però alla fine erano tutti fattibili, cioè ci dovevi mettere un po' di impegno. Il più difficile di quello che hai fatto, cosa hai trovato? Secondo me quello storico e quello politico, perché sono comunque ambiti che a me personalmente non interessano. E no, è andata bene, dai, hai fatto l'ultima tipologia di riguardante la Costituzione, però erano tutti temi fattibili, secondo me. Mi aspettavo molto peggio, invece era più che fattibile, dai. La cosa più difficile? Iniziare, inizio, una volta che prendi il via poi ti vengono fuori le idee, riesci a scrivere di tutto. Speriamo bene, diciamo che i temi erano possibili, facili, fattibili, esatto. La cosa più difficile? Penso per lo più saper riorganizzare le idee quando letto i documenti, poi una volta fatta la scretta la consiglio di fare. Ho fatto il tema su un ambito storico politico, quindi parlando di massa e propaganda, riprendendo il fatto che durante i regimi totalitari, ma anche oggi, molto spesso, i partiti politici tendono a influenzare su argomenti che sono comunemente parlati, sempre ripetuti, per avere una forte influenza sulla società che invece tende a non informarsi mai. L'emozione più forte invece? Qual è stata? Essere lì seduti e aspettare comunque l'attesa dei fogli che arrivassero, poi riordinare le idee, scegliere comunque la traccia più adatta. Grazie.